È una cosa alla quale stiamo lavorando da due anni ed era uno degli obiettivi del mio mandato, onestamente. Io sono un'animalista convinta, per cui ritengo che fosse uno strumento necessario per questo territorio. Anzi, ritengo che è grave che tutta la regione molise, la maggior parte dei comuni, siano sprovvisti di un regolamento che tuteli gli animali. Infatti quegli animali sono completamente abbandonati, non ci sono regole, non c'è nessun tipo di tutela. Per cui ritengo che fosse uno strumento doveroso, doveroso per il rispetto alla vita, perché ritengo che anche la vita degli animali vada rispettata. Quindi è un buon regolamento, ci abbiamo lavorato per tanto tempo, a lungo. Devo fare un prauso alla commissione che in questo mi ha dato davvero una grossa mano. E siamo riusciti, tramite questo regolamento, a raggiungere obiettivi di cui la regione era totalmente sfornita, tipo il soccorso agli animali incidentati, tipo la tutela delle colonie feline, gli animali abbandonati, le deiezioni canine che nessuno raccoglie. Insomma ci sono tutta una serie di regole che adesso il cittadino dovrà rispettare, ma che dovrà rispettare il proprietario dell'animale, perché ci sono ovunque cani a catena sotto il sole cocente. Cioè non c'è proprio il rispetto della vita degli animali. E questa è una cosa gravissima, perché io credo che in una società civile il rispetto alla vita è il rispetto per tutto ciò che ci circonda, non solo per l'essere umano. C'è gente che mi dice, ma noi dobbiamo pensare alle persone, possiamo pensare agli animali. No, pensiamo alle persone e agli animali, perché gli animali hanno il diritto alla vita esattamente come le persone.